Maga del risparmio, ma non solo, maga anche per la prima infanzia, prezzi piccoli anche per i più piccoli. Carrottine a partire da 150.000, Mettini in legno laccato a partire da 160.000, passeggini da 58.000 e tutto per il bimbo, anche l'abbigliamento da 0 a 4 anni. Maga del risparmio, strada statale Cassia Nord, chilometro 88 e 400, tra Viterbo e Monte Piascone. Grazie a tutti.